Allora, Brageta Kid Q Super 17, questo è GT, classic GT, si fa così e basta. Ah, perché non metti gone con il giro in BTB, vabbè, dov'è provarlo. Tami, un buon pomeriggio, ciao bro. Ok, mi hai picchiato, ho l'anticover, dai, viaccia. Ok. Uh, peccato quasi. Mancava poco, mancava poco, mettiamo gone, non mi interessa, vai. Sì, 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 spamma queste blast, spammale queste blast, senza paura. Vado se c'è una verde, impazzisco, ok. Bello, vai. Ok. Ah, troppo tempo ancora. Sì, posso farlo, K, posso farlo, posso farlo. Perché c'è stato gone, che può fare, che può fare. Ok. Nooo, mi ha fatto full pugnetti, sto giochino. Che figone, veloce da. 17 in, eccolo qua. Però finché c'è l'anticover, insomma. Ma dai, mi full engage per gone, va bene. Va bene. Ok. Temi qualcosa. Non questo. Nemmeno questo. Non mi tira blast dopo i tappini? Pazzo questo uomo. Cioè, non posso giocare perché ho due semi in mano e... ...delle blast. Cioè, non posso letteralmente giocare adesso. Ah, ok. Mamma mia. Ciao, GG. Sì, sì, l'ho giocati prima. Con sell e red, pazzeschi. Come sempre. Ok. Ti prego, basta. Ti prego, fermati. Ti scongiuro. Plaka la tua ira. Va bene. Che metto beast? Cioè, devo entrare in combo, però. Cioè, sta strike. Amici sta campionando con 17 e non posso fare niente. Guarda. Uh, godo. Mamma mia se godo. Vai. Che fai? Mi tiri pugnetti. Schivi. Non so cosa fai, però... Aspettiamo con le stanze. Tiro la strike. Vediamo che succede. Va bene. Ci sta. Eh, stai rischiando, eh. Queste m l'ho buonito, però. Devo prendere il timing. Ah, mi sa che ha schivato. Ok. Muori. Godo. Dopo 800 schivate e timing persi. E sempre che buonetta, Godo. Facciamo un attimo a gun. Dio, questi pugnetti. Non ce la faccio più. Mamma, ce l'ho da averti in mano. Bellissimo. Vai, 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 va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Ok. Ma c'è il neutro, sta SM? Che problematica c'è il neutro. Primo B, se nemmeno muore. Come fa l'HP. A me non credo, sono full HP. Anche se ha vantaggio, in teoria. Uh, quasi, eh. Godo, Godo, questi pugnetti, basta. Basta, mio Dio, basta. È solo che mi mancano le carte, mi manca lo switch verde. Fate l'entraire le bestie, vi prego. Ok. Non c'ho la verde in mano, che sfiga. Non so come colpirlo. Facciamo Tegle? Svicino? Proiettiamo? Sì, ammazzalo, bro. Ammazzalo, bro, ammazzalo, 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 ammazzalo. Ok. Ok. Muori. Allora, in teoria, non può scappare. Perché lui non c'ha sub accounts. Quindi, ci dovrebbe che fare di altri. Mette l'altra prima vita, la seconda è conquistata. Mentre vai. Vai, vai. Cucciolo, vai. Tremi una blasta. Ricordo. Madonna, quasi one hit. Eh, mi ha luccato l'SM, però... Ci ho preso in gracia. Eh sì, te ne ho visto, mi dispiace. Ho visto, ho fatto un sacco di live full shaft. Infatti, ha lucky. Ha lucky, poi con Gon, che è il suo PG preferito. Proprio sfigato a livelli assurdi. No, non so, neutro. Perché stava fuori, Beast, e non c'aveva il gage attivo. Comunque è esploso. Esploso. Si vince nel cinque. Ti però dà problemi, eh. Ah, ma Hybrid Mirror? Eccoci qua. Adesso non c'è un'abbiccata di Hybrid Mirror, perché il matchmaking è tutto storto. Villain, eroe, sell. Ah, si può erose, mi piace. Beh, però un po' più sell. E' rosa è andata marrata, si può raffiga. Brow Strike, dai. Ah, il Brow Attenzione è... Lo sa. Cos'è non può tirarmi quelle Strike? Eh, però sta avvelenato. E con Hybrid Mirror, let's go. Bro, ti faccio male. Strike, Blast, qualcosa. Il fatto è che non può fare davvero niente. C'è il fatto è che se c'è quattro Psych in mano con l'Hybrid, tu cosa puoi fare? Niente, perché il tuo Gon avrà un Counter in mano. E' fastidiosissimo. Ok. Oh, va bene. Qua c'è l'SM, sono stupido. Una stack che me la tiri, campione? Non serve. Non serve, boom! Mamma mia. Niente SM come risposta. Eeeh, rip. Rip, rip, rip. Allora, guarda, non metto... Se non tiro l'altro, metto solo perché poi scappa Gohan, entra l'altro Gohan e mi lave buff effect sull'anti-endurance. Si trasforma? Che sta facendo? Questa è verde, me la tengo. Facciamo così? Da, non ci credo. Il vento non può tirarmi niente. E' tipo Blast con sto go, ne può tirarmi, fine. Eccoci qua. Boom! Madre di Dio. No! Rip, rip la mia endurance. E' un continuo. No, 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 mamma mia, sei matto, sei. Sei un pazzo, mi sono cagato sotto. Ok. Ho un po' di paura. Ok, non ho più paura. Non ho più paura, bro, sei morto. Che roba. Mamma mia, che roba. Vai, 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 tranquillo, tranquillo. Ti ammazzo di Strike. In Hybrid è Gohan e fa danni anche di Strike. Fa danni... Fa meno danni di Blast, però... Fa più danni in generale, diciamo. E' più equilibrato sicuramente tra Strike e Blast. E qui il game finisce. Ma comunque Gohan contro i team full melee è... È stupido. È stupido, ragazzi. Boom! Via. Saiyan. Almeno non è Hybrid. Non è il ventesimo Hybrid di fila. Vabbè, Saiyan, in realtà... Lo picchiamo forte, eh. Lo picchiamo forte. Non c'ha doppio blu. Non c'ha purple per Gohan. Mi scemano. Vado ad Amsterdam, bro. Torno martedì. Ok. Ok. Insomma. Strike? No, si avvicina più Blast. Che va anche a droppare? Non ho ben capito questa scelta, campione. Madonna, ragazzi. Saiyan è lo... Che danni faccio? A parte Bardock senza tirare il filo ed adesso è fatto di carta pesta. Cioè di buonitto. Godo. Ti ho preso? Alla chi. No, bro. Non fare così. Blast, entra Beast. Ed entra la cover. Ti amo. Ti amo. Ok. Dai, morto. Morto. Eccoci qua. Bardock 2024. Verrà. Saiyan sta a pezzi. Saiyan purtroppo sta a pezzi perché... Ultimate. Carina sta Ultimate ma non ci puoi fare molto, bro. Oddio. Forse non dovevo switchare. Motiva la main e mi ammazza, mi sa. Vediamo. Main? No, non lo sa. Grande uomo. Saiyan è letteralmente Goku 1v3 perché il resto sta a pezzi. Non c'è Warpul che ti copre. Non lo so. Non lo so. Saiyan non mi piace più, ragazzi. Ha perso abbastanza, forse purtroppo. No, hai rotto. Bro, hai veramente rotto. Facciamo così. Facciamo così. Non c'ho l'SM. Stavo ammazzato. Bad. In realtà è semplicemente sfiga perché c'ho 4 blast in mano. Beh, facciamo blast. In realtà ti posso anche tirare così, eh, guarda. Magari non te l'aspetti, non metti nemmeno picconcita, no? Esatto. Esatto. È proprio quello che intendevo. Poi mettiamo verde. Facciamo una bella SM. Il bro, a meno che non mi abbia rasciato SM, esatto. Rinasce ed è... Rip.